Buon pareggio del Francavilla che nell'infrasettimanale al Capozza di Casarano ha dimostrato grande carattere impattando in pieno recupero Grazia De Marco dopo essere andato sotto poco più di un quarto d'ora dalla fine. L'avvio è subito su buoni ritmi e Ferrante respinge un tentativo di Lucas D'Ambros. La risposta degli ospiti è affidata al destro di Wagen che al settimo trova attento Ianni sul primo palo. I Lucani vengono fuori nel finale di tempo, in particolare con una gran botta di ganci da limite sul quale il portiere è ancora molto bravo e si va all'intervallo con il punteggio che non si sblocca. Il primo tentativo di ogni nota della ripresa è di Logoluso al dodicesimo che però finisce fuori bersaglio. Ben più pericolosa è la combinazione tra Croce e Nollet che al sedicesimo porta alla conclusione il capitano che sfiera la traversa. L'equilibrio si spezza al ventisettesimo con Dell'Ino che, lanciato da Montinaro, supera Pisco in uscita con un preciso pallonetto. I Rosso-Blu non ci stanno e iniziano subito a premere la ricerca del pareggio che trovano al cinquantesimo con De Marco, bravissimo a deviare all'angolino un tiro da appena fuori aria di Cristallo. Con questo punto i sinnici salgono in classifica a quota 58 e si mantengono al secondo posto in solitaria con due lunghezze di vantaggio sul bitonto e, domenica prossima, al Fittipaldi riceveranno la visita del Nardò. Grazie a tutti.